Sono insieme ai miei fidati colleghi del gruppo animazione Nicolò, Nicolò, Alberto, Alessandro, Leonardo e Pietro Fatemi un saluto ragazzi Ciao Allora oggi è stata fatta la prima, la prima, la prima dimostrazione di gioco che può durare due giorni Cosa avete fatto oggi? Come si chiamava il gioco? Avengers Avengers, quindi i vendicatori Mercoledì cosa farete? La istruzione del mondo Ok, quindi gli Avengers dovranno ricostruire il mondo Siete pronti ragazzi? Sì Benissimo Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì allora Arrivederci Anche da Massimiliano e da gli Avengers Sì